L'uomo dalle braccia tatuate vi assedia di domande e la sua voce è capace di ricordare il rumore della neve quando la vesti per la prima volta. A un certo punto chiude gli occhi e sillaba. Amici, una volta si diceva che bisognerebbe essere pellegrini ovunque. Sentirsi forestieri e sentirsi a casa dovrebbero diventare la stessa cosa, ma beato soprattutto l'uomo per cui tutto il mondo è un grande paese straniero. Buon appetito signori, dice la bande che mi ospita, e buon appetito anche a te Bertrand. Non mi chiamo Bertrand! Sorge l'uomo dalle braccia tatuate, mi chiamo Bertrand! Grida Raudo, batte il palmo sul tavolo e nel giro di un attimo sembra vittima di una crisi di nervi. Il mio nome di battesimo è Bernard Hartman! Bernard Hartman! Bernard Hartman! Bernard Hartman! Bernard Hartman! Bernard Hartman! È un uomo assolido, capace di ricordarti un vecchio ceppo solitario, e le sue braccia fanno veramente paura. Adesso vuole farvi lo capelli del proprio nome, e grida di rosso il mondo come il radiotelegrafista di un Panzer nel bel mezzo della battaglia. Berbe, Ambur, Rastog, Nassau, Hamburg, Hagen, Rastog, Düsseldorf, Bernard Hartman! Guardiamici, verso! Grazie a tutti! Ben Hart, in italiano vuole dire forte come un orso, scusate se ho perduto la calma, ma ve l'avevo già detto, il mio nome è Bernard Hartmann. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!